Il rinoma del nervo acustico, detto anche sciannoma vestibolare, è una terminologia scientifica più corretta, è un tumore benigno dell'angolo pontocerebellare intracranico che nasce nel condotto auditivo interno a livello del nervo vestibolare e poi si espande appunto in questo angolo che si chiama angolo pontocerebellare. L'80% di tutti i tumori dell'angolo pontocerebellare sono dati dalla presenza del rinoma dell'acustico. Nella cittadinanza c'è un rinoma dell'acustico, o cioè un rinoma vestibolare, uno ogni 100.000, significa che in Italia ci sono circa 600 tumori nuovi all'anno. Il rinoma si presenta quasi sempre con una sordità del nervo di tipo progressivo, raramente di tipo improvviso, cioè improvvisamente si perde l'udito, la probabilità è molto rara, rarissima. Poi accompagnato da acufeni, cioè fischi dentro l'orecchio, una difficoltà non solo all'udito ma alla comprensione delle parole e poi è caratterizzata anche da una instabilità, cioè il paziente vi dice che ha una sensazione di sbandamento mentre cammina, mentre le vertigini vere e proprie non esistono. Ci sono degli altri sintomi molto meno frequenti che sono la ipoestesia, cioè la diminuzione, la sensazione dell'emifacia. Rarissimamente si presentano con una paralisi del facciale e ancora più raramente con una paralisi dei nervi misti. La diagnosi del nervo dell'acustico si fa con la raccolta dei sintomi naturalmente, cioè l'anamnesi, quindi abbiamo detto che è la solidità progressiva, difficoltà a capire, acufeni, talvolta instabilità. Quando ci sono questi sintomi è necessario fare quindi una diagnosi, cioè sapere, esaminare perché questi sintomi ci sono. Quindi si fa prima di tutto un'otoscopia per verificare la normalità del condotto utivo esterno e della perforazione della membrana timpanica, si fa un esame radiometrico che dimostra quasi sempre una solidità neurosensoriale, una comprensione delle parole discriminazione vocale che è quasi sempre compromessa, un'impedenzometria che è un esame non veramente necessario e soprattutto un ABR, cioè potenziali evocati del tronco. I potenziali evocati del tronco non sono altro che un elettronice programma udittivo, si mettono degli elettroni nella testa e nella mastoide, si mandano dei suoni particolari che si chiamano click e si registra l'evocazione della risposta cerebrale studiando delle onde. Si studiano le onde, sono da 1 a 5, si studia l'onda 1, l'onda 3, l'onda 5, se queste onde in un orecchio sono ritardate, cioè allungate la risposta rispetto al controlaterale, questo è molto sospetto di presenza di una neoformazione nell'angolo pontocerebrale. Una volta fatto questo noi abbiamo solamente il sospetto, naturalmente la certezza matematica che il tumore ci sia o no è dato dagli esami neuroradiologici, cioè della risonanza magnetica con contrasto. È un esame molto particolare che comporta circa 20 minuti, non c'è nessun pericolo, non c'è reazione al contrasto e la risonanza magnetica ci dà la certezza matematica della presenza o meno di questo tumore. È talmente precisa ormai che si diagnosticano dei tumori anche della dimensione di 1 mm o 2 mm. Una volta fatta diagnosi di neuroinoma si verifica quindi la presenza del tumore e la dimensione, quindi ci sono delle classificazioni che abbiamo introdotto in letteratura che sono dal condotto di tipo interno, quindi intrameatale vuol dire dentro l'osso, poi extrameatale e vengono classificati centimetro per centimetro, fino a un centimetro. Il piccolo da 1 a 2 è medio, medio, da 2 a 3 è medio grande, poi dopo 3 sono grandi e poi dopo 4 giganti. Quindi a seconda della dimensione del tumore e dei sintomi e dell'età del paziente c'è l'indicazione o meno alla terapia chirurgica, ma la terapia chirurgica non è la sola o non è l'unica che deve essere indicata. Ci sono alternative che sono il follow up, cioè non operare, vedere la crescita del tumore ripetendo, quindi wait and scan, attesa e scan, riesame, a distanza di un anno, due anni, tre anni, cinque anni per vedere se questo tumore cresce. Quando è che si fa il follow up? Il follow up si fa in tumori piccoli, pazienti anziani oltre 65 anni che non hanno instabilità. In questi pazienti è molto meglio non operare, seguire l'evoluzione, cioè l'evoluzione naturale e di questi pazienti il 65% non cresce nei primi cinque anni, l'altro 35% cresce, a quel punto lì si vede se cresce poco o molto e si rivede eventualmente la indicazione chirurgica. Il follow up è una delle trattamenti che devono essere fatti in alcuni pazienti. Altro trattamento adesso che è di moda, ma di cui io e il gruppo otologico non siamo assolutamente d'accordo, è la radioterapia. La radioterapia non deve essere mai fatta come prima trattamento, prima in assoluto. Dovrebbe essere fatta eventualmente e si decide però tra radioterapia e chirurgia nel caso che il tumore abbia una crescita rapida e in quel caso lì allora si decide se fare l'intervento oppure no. Noi riteniamo che l'intervento è la cosa migliore perché c'è una soluzione definitiva del problema, mentre con la radioterapia bisogna fare un controllo a vita per vedere se cresce. la radioterapia è tra l'altro pericolosa perché ci sono stati descritti trasformazione maligna 1 per 1000, il che non è poco perché quando succede vuol dire 100% e poi nel caso di dover essere operato dopo la radioterapia è molto più complicato togliere il tumore e la paralide facciale è quasi presente nel 100% dei casi. Altra alternativa è la chirurgia. La chirurgia dipende anche questo dalla dimensione del tumore, dall'età del paziente, dallo stato dell'udito. Se i tumori sono grandi, medio-grandi, oltre 2 cm, non c'è soluzione che è la translabilitica, cioè si passa attraverso un'incisione retroricolare, attraverso l'osso per non toccare il cervello. Io ho messo appunto un detto che si chiama remove the bone and leave the brain alone. Rimuovi l'osso e lascia non toccare il cervello e questa è la via translabilitica attraverso la quale si possono togliere tutti i tumori, tutte le dimensioni dei tumori da un centimetro fino a 4-5 centimetri. Nella eventualità che si tratti di un paziente anziano, oltre 65-70 anni, con un tumore grande, in questi casi l'indicazione chirurgica è l'unica terapia, ma si fa un accorgimento tecnico di rimozione subtotale o parziale, in modo da non diminuire la lesione del nervo facciale. Né invece i pazienti giovani la rimozione del tumore deve essere totale, per via translabilitica. Quando si tratta invece di pazienti giovani con un buon udito e un tumore piccolo, intrameatale o sotto di un centimetro nell'angolo punto cervellare, si può adottare altre tecniche che si devono chiamate funzionali per l'udito. Se completamente dentro l'osso, cioè intrameatale, si può fare una via della forza cranica media dall'alto, se invece è al di fuori del meato, si fa una via combinata retrosigmoidea e retrolabilitica nel tentativo di conservare l'udito. Naturalmente non c'è nessuna sicurezza di conservarlo. La probabilità di conservare l'udito normale è quasi zero, molto bassa. La possibilità di conservare un certo udito più o meno buono è uscita a circa 50-60% dei casi. Anche in questi casi, pur adottando una tecnica chirurgica cosiddetta funzionale, c'è un 50% di pazienti che perdono comunque l'udito. Naturalmente questa chirurgia è una chirurgia molto delicata, molto difficile, ci vuole molto tempo per apprenderla e deve essere fatta in centri super specializzati di eccellenza, altrimenti i risultati possono essere molto drammatici. Anche in mani esperte però comunque ci sono delle complicazioni. La complicazione più frequente è la paralisi del facciale. La paralisi del facciale può essere presente anche conservando anatomicamente intatto il nervo perché nello staccare il tumore dal nervo il nervo viene devascularizzato, cioè la vascularizzazione viene compromessa, c'è una degenerazione del nervo e poi dopo questi pazienti recuperano. In alcuni casi, soprattutto nei tumori grandi, il nervo può essere interrotto, e quindi la paralisi del facciale 100%, ma si può ricostruire o durante lo stesso intervento con un trapianto di nervo surale, oppure a distanza di qualche mese con delle anastomosi. Altra complicazione è la emorragia post-operatoria, cioè in post-operatoria si ha un'emorragia nell'angolo e bisogna intervenire immediatamente per drenare l'emorragia, altrimenti il risultato è l'esito, cioè la morte. C'è un'altra complicazione che è la licorrea, cioè la fuoriuscita di liquido cerebrospinale dal naso che si presenta uno o due giorni dopo l'intervento, quando il paziente piega la testa così si vedono delle gocce di acqua che scendono dal naso, quella è licorrea. In quel caso lì, nella maggior parte dei casi guarisce medicando molto stretto la parte dell'intervento, oppure se questo non finisce si riapre la via d'accesso, non più verso il cervello, aggiungendo del grasso addominale che deve essere usato per obliterare, per chiudere la via d'accesso. Altre complicazioni molto rare sono la paralisi dei nervi misti. Noi abbiamo una percentuale bassissima, molto meno dell'1% e questo avviene solamente nei grandi tumori. Nel post-operatorio immediato il paziente viene stubato, cioè è sveglio, non in coma artificiale, non ha quindi il tubo tracheale e si lascia solamente un tubo naso-gastrico per eventuali vomiti. Il paziente va in terapia intensiva per una notte, viene controllato strettamente ogni 15 minuti, si sono controllati i parametri vitali e le prime sei ore, le sei ore seguenti ogni mezz'ora. All'indomani mattina il paziente fa un'attacca di controllo per vedere che non esiste nessun problema cerebrale, e poi va in reparto, nel reparto rimane circa 5-6 giorni. Una delle attenzioni che devono essere fatte è all'occhio. Cioè se c'è una paralisi facciale bisogna proteggere l'occhio con un occhialino, un occhialino in plastica, in modo da evitare delle lesioni corneali. Nel caso che ci sia una paralisi completa da interruzione del nervo, dopo 2-3 giorni viene chiamata, viene fatta una sottura laterale delle due palpe, che si chiama tarsografia, in modo che il paziente sia protetto dalle infezioni all'occhio nei mesi seguenti finché non inizia a recuperare il nervo. Qualche volta si ha molto raramente un'ematoma nell'addome, perché l'addome si ha un'incisione, si fa un'incisione per prelevare il grasso che viene utilizzato per obliterare la cavità e si può avere un'ematoma. Questa è una complicazione molto banale, basta aprire anche il reparto stesso, un po' la ferita, si drena il sangue e tutto è finito. Un'altra complicazione è la mortalità purtroppo, ma se si pensa che all'inizio di questa chirurgia si aveva l'80% di mortalità post-operatoria, poi progressivamente si è ridotta, oggi nella nostra casistica abbiamo meno dell'1 per 1000 di mortalità. Il paziente va dimesso nel giro di 5-7 giorni e ha bisogno di un follow-up a distanza a due mesi e si fa una risonanza magnetica di controllo, in modo che questa sia come base per gli anni futuri. Poi se ne fa una ad un anno, poi a tre anni, a cinque anni, a sette anni, fino a dieci anni. Si va fino a dieci anni perché abbiamo avuto un caso solo di recidiva per via translabilitica. Comunque il follow-up radiologico è necessario. Poi c'è il follow-up anche per la funzionalità del facciale, che viene fotografato all'inizio e poi si vede progressivamente il recupero. La probabilità di avere una paralogia facciale irreversibile è molto bassa e nel caso che si abbia una paralogia completa dopo 12 mesi si può fare un intervento di anastomosi. Il gruppo otologico ha oggi probabilmente una delle casistiche, forse la casistica più grande in campo internazionale. abbiamo operato oltre 3.700 casi, tutti operati nel gruppo otologico e stiamo seguendo oltre 1.200 casi come follow-up. Di questi 3.700 solamente un caso ha avuto una recidiva, mentre quelli nel follow-up il 65% dei casi non sono cresciuti nei primi cinque anni, mentre l'altro 35% è cresciuto, alcuni poco, alcuni molto. Quelli che sono cresciuti nella rapida crescita vengono operati, gli altri si continuano a controllare con il follow-up. Un consiglio ai giovani ottorini è di avere un alto indice di sospetto. Ogni paziente che presenta una solidità neurosensoriale, con acufene o meno, con instabilità o meno, deve essere considerato come un portatore di neurinoma dell'acustico fino a prova contraria. Quindi fate gli esami e se c'è nessun dubbio, fate una risonanza magnetica con contrasto. Questo è importantissimo perché prima si fa la diagnosi, quindi la diagnosi precoce, meno sono alte le probabilità di complicazione chirurgica. Grazie a tutti.